Ciao cari amici di YouTube, eccomi qui per farvi gli auguri, come promesso. Ci tengo molto a ognuno di voi e con qualcuno ci stiamo anche scrivendo spesso ed è nato un bel rapporto. Volevo proprio farvi i miei auguri di Natale di persona e come augurio non poteva mancare una delle mie riflessioni. Ragionavo sul fatto che per essere veramente felici, secondo la mia esperienza, è necessario dare valore alla propria vita e a quella degli altri perché questa attitudine dà grande soddisfazione interiore comunque vadano le cose. Il mio augurio per questo Natale è questo, vi auguro di stare così bene e avere così tante risorse interiori ed esteriori da poterle usare non solo per valorizzare la vostra vita ma anche quella degli altri. Buon Natale a tutti voi! Grazie a tutti!